salve a tutti amici di mattoscacco e bentornati sul canale il mio nome è alex melchior sono un candidato maestro e oggi ho deciso di accontentare la richiesta di un nostro iscritto che aveva chiesto di fare qualche approfondimento sulla moderna benoni non mi metterò a fare un approfondimento teorico ovviamente perché la cosa si dilungherebbe veramente troppo però mi è capitato di giocare nel torneo interprovinciale latino e frosinone una interessante partita contro claudio stirpe anche lui un candidato maestro molto forte e la partita è veramente interessante così approfittando di questa occasione faccio contento il nostro iscritto e vi porto una nuova partita da momento che sul sulla piattaforma di chess.com scarseggia il materiale quindi qualcosa dovrò pur fare io ero il bianco d4 il mio avversario cavallo f6 c4 c5 appunto la moderna benoni si caratterizza proprio con questa mossa d5 e6 come prevede la teoria cavallo c3 e per d5 c per d5 d6 cavallo f3 g6 alfiere f4 mi sono deciso per questa linea un po più tranquilla perché comunque onestamente parlando è stato un torneo che ho giocato tra lavoro e altri impegni quindi non ho proprio avuto il tempo materiale di ripassare le lunghissime varianti teoriche che genera questa apertura molto affascinante anche molto complessa soprattutto dal punto di vista tattico quindi ho deciso una linea un pochino più serena per giocarmi una partita tranquilla alfiere g7 h3 è normale che ci si prepari a eventuale ripiego dell'alfiere in h2 in qualche linea perché di solito il il nero qui gioca cavallo h5 e vuole spingere il pedone f c'è tutto un gioco quindi diciamo h3 c'ha questo scopo crea una casa di fuga per l'alfiere che continua a premere su questo pedone in d6 e limita anche lo sviluppo dell'alfiere campo chiaro che intanto gli viene tolta la casa la casa g4 arrocco e3 la variante principale caratterizzata dal pedone in e4 vi ripeto io ho scelto una linea più tranquilla meno forse meno forzante dal punto di vista pure del pratico aperta a più a più sviluppi donna e7 la donna si toglie dalla colonna d perché sta preparando lo scarico per far giocare alla torre per dare la possibilità di mettersi in d8 e di difendere questo punto in in d6 questa manovra è utile perché di solito in qualche linea il bianco qui va a giocare cavallo d2 e poi cavallo in c4 si combina con l'alfiere e va attaccare questo benedetto punto debole in d6 chi gioca la benoni sa quanto è fastidiosa la pressione del bianco in quella casa no alfiere d3 non voglio permettere ovviamente al mio avversario di giocare alfiere f5 dopodiché sembrerebbe abbastanza attivo no il suo gioco di pezzi a6 l'espansione sul lato di donna del nero va immediatamente bloccata quindi qui dopo a6 vi consiglio subito a4 non permettete mai b5 perché altrimenti il nero c'ha una buona partita cavallo bd7 arrocco e cavallo h5 ora io qui avrei dovuto teoricamente giocare alfiere h2 avendo giocato h3 è la cosa più coerente mi infastidivo comunque il fatto che il mio avversario potesse controllare il punto e5 la colonna è di solito nella moderna benoni è un buon trampolino di lancio per i pezzi neri soprattutto la casa e5 avevo intenzione di disturbare lo sviluppo del mio avversario ho visto che aveva io ho finito lo sviluppo il bianco qui ha finito lo sviluppo il nero ancora deve risolvere qualche problemino nel senso c'è ancora questo alfiere in c8 bisogna decidere dove svilupparlo c'è questo cavallo che sta lasciando sì spazio al pedone df che andrà spinto quindi sacro santo però sta comunque al bordo della scacchiera e tutta una serie di cose mi sembrava che in questo in questo momento della partita sarebbe stata una buona idea sicuramente andare a infastidire lo sviluppo del del mio avversario così ho deciso di giocare una mossa che comunque non mi non mi comprometteva e ho giocato ho deciso di giocare alfiere g5 c'ha una anche una componente forse psicologica questa mossa perché sto dicendo praticamente al mio avversario o torni indietro con il cavallo e ammetti di aver tra virgolette perso un tempo no questa poteva essere il messaggio o giochi donna e8 abbandonando momentaneamente la difesa del punto d6 che non è mai una cosa saggia oppure giochi f6 cechi momentaneamente il tuo alfiere g7 che resterebbe un po tappato dal suo proprio pedone e si mostra questa debolezza in e6 no questa casa debole come per magia nasce questa debolezza quindi la mossa che comunque non credo sia fortissima ma è una mossa rognosa no comunque già va a questionare l'avversario chiede definizione vuole ha proprio questo obiettivo i pezzi del bianco sono abbastanza elastici stanno tranquilli stanno senza senza troppe pretese sono stati messi in gioco e i pezzi del nero invece gli viene chiesto in questo momento definizione il mio avversario decide di giocare alfiere f6 che ho pensato che l'alfiere in f6 non stesse bene perché cavallo h5 appunto dopo questa mossa di cavallo l'idea del nero era appunto quella di lanciare il pedone f che è il piano sicuramente corretto no andare a lanciare questo pedone in f5 poi portare in f4 poi eventualmente cambiare o riprendere nel caso che cambi il bianco aprire comunque qualche linea sul lato di re e andare a cercare un gioco da quel lato il alfiere in f6 momentaneamente impedisce la spinta f5 quindi ritarda il controgioco del nero ho pensato a questo punto di non cambiare per semplificare la vita del mio avversario o almeno non subito ma ho detto fammi giocare alfiere h6 perché se l'altore si sposta in e8 per esempio c'è un alfiere che sta messo bene in h6 se invece decide di a oltranza di cambiare l'alfiere lo cambierò semplicemente in g7 perché voglio evitare la ripetizione in questo turno era molto importante per me col bianco forzare una vittoria se volevo ambire a un buon posto in classifica quindi ho deciso di giocare per vincere rischiando il meno possibile il mio avversario gioca alfiere g7 prendo in g7 re per g7 e a questo punto gioco a5 una mossa tipica di queste strutture il classico pedoncino che da solo tiene a bada la maggioranza salta agli occhi la debolezza della casa b6 casa casa nella quale presto o tardi si andrà a mettere un pezzo che congederà totalmente l'ala di donna l'ala nella quale di solito il nero spinge forte per cercare forti controgiochi anche con c4 molte volte questo pesoncino qua che sgombera la casa c5 per il cavallo o manovre comunque del genere il mio avversario qua accelera il controgioco cambiando subito questo cavallo risolvendo un po' i problemi di spazio in qualche altro video precedente abbiamo già parlato della mancanza di spazio e quali sono le manovre tipiche per andare a risolvere parzialmente almeno questo tipo di problemi quando abbiamo poco spazio dobbiamo cercare la semplificazione di qualche pezzo ovviamente non in maniera sconsiderata no se abbiamo la possibilità di cambiare due pezzi diciamo così uguali allora la cosa ci fa è a nostro vantaggio infatti il mio avversario qui gioca subito questo cavallo e5 io non me lo faccio dire due volte lo cambio subito donna e5 e a questo punto ho giocato torre a3 una manovra sicuramente particolare no forse c'era di meglio dopo la partita ho analizzato tanto e mi sono forse convinto che sarebbe stato meglio giocare qualcosa come donna 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 d2 sembra molto strana questa mossa però in realtà è buona perché adesso dopo per esempio f5 che sarebbe la mossa che il nero vuole giocare con f4 paralizzo questa iniziativa del nero e adesso la il vantaggio sulla di donna del del bianco si sente si sente voi dite giustamente ma c'è questo pedone treno arretrato posso mai creare un pedone arretrato su una colonna semi aperta adesso il nero mi piazza la torre in e8 comincia a premere questo è verissimo è verissimo ed è proprio la considerazione che io ho fatto in partita e che mi ha spinto a non considerare proprio questa donna d2 con idea di f4 in effetti però questa mossa congela tutto non è così grave la debolezza non si fa fatica a difenderla ci sono diecimila modi per difendere questa debolezza abbiamo torri in e1 l'altra torre può venire in e1 stesso cavalli in d1 rf2 cioè ce ne sono diecimila il pedone è debole sì però mancano anche i pezzi del nero con cui poter attaccare questa debolezza quindi non era così grave forse poteva essere un'idea interessante forse anche migliore di quella che poi ho giocato in partita io qui invece in partita ho deciso di giocare torre a3 il mio avversario fiere d7 torre b3 iniziando a premere sulle debolezze dell'ala di donna torre a b8 torre b6 con questa mossa mi sono assicurato che il lato di donna del nero resti paralizzato al momento che il punto d6 resti sempre sotto la pressione sotto la pressione di un mio pezzo non c'è più il cavallo in f3 pezzo che di solito come abbiamo visto prima è il candidato a giocare cavallo d2 cavallo in c4 dove da qui preme in d6 non c'è più l'alfiere delle case scure che da h2 o g3 o f4 dipende dalla posizione preme contro d6 ho deciso di sostituire l'azione di questi due pezzi mancanti con la torre il ragionamento è che così come non ho più io i pezzi di prima per attaccare il punto d6 anche il mio avversario non ha più i pezzi con i quali poterlo difendere e quindi ho iniziato a mettere l'occhio diciamo su questa debolezza e a tenerla semplicemente d'occhio senza iniziare qualche forcing disperato il mio avversario qui gioca f5 giustamente si sa sul lato di donna non c'è niente al centro al momento non c'è nulla bisogna cercare un controgioco e anche rapidamente l'idea più corretta è effettivamente cercare di aprire qualche linea sul lato di re perché se prendiamo questo 3x3 3x3 che è il mio arrocco non c'è un pezzo che lo difende il mio arrocco è solitario quindi il mio avversario cerca di sferrare un rapido contro attacco sull'ala di re cercando insomma di trovare gioco se aspetta che succedano le cose sull'ala di donna è ovvio che il bianco non avrà nessuna difficoltà ad andare in vantaggio alfiere 2 iniziamo a questionare questo cavallo si gioca contro f4 ovviamente al momento c'erano tre pezzi che sostenevano la spinta in f4 del nero quali la donna in e5 il cavallo in h5 la torre in f8 dopo questa mossa qua sto dicendo al mio avversario se vuoi giocare f4 sappi che cambierò in h5 dopodiché ti distruggo la struttura pedonale attorno al re e semmai dovessimo cambiare le donne for example questa posizione è uno è dura è dura 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 per il nero qui c'è il pedone di 6 sempre debole qui per esempio se andasse a prendere vabbè c'è sta subito questa è una catastrofe questa posizione non ha non ha alcun senso vederla il bianco si prenderà a breve la colonna e cadrà il pedone c b7 farà la stessa fine questo finale non ha nessuna speranza quindi il mio avversario decide giustamente di tornare con il cavallo in f6 a questo punto io gioco donna b3 donna b3 che continua a tenere d'occhio la debolezza in d5 insieme al cavallo da d1 faceva la stessa cosa la donna b3 fa questo ma attacca anche il pedone in b7 il mio avversario trova una replica che onestamente in partita mi era un po' sfuggita mi aspettavo una cosa passiva come alfiere c8 o lasciare direttamente il pedone in presa ma il mio avversario trova una bella risorsa che è torre f7 torre f7 mi impedisce di prendere il pedone in b7 il pedone è avvelenato perché adesso per esempio dopo torre per b7 torre per b7 donna per b7 e alfiere b5 l'alfiere da b5 sta attaccando l'alfiere in e2 mentre difende il pedone in a6 e la torre sta attaccando la donna ora probabilmente dovrei giocare qualcosa come donna in a8 per continuare a difendere il pedoncino in d5 ma semplicemente cavallo per d5 alfiere per e2 cavallo per e2 dopodiché cavallo per d5 e il nero ha una signora posizione può cadere a6 non fa niente cadrà a b2 dopodiché l'attivazione dei pezzi del nero è consistente ad esempio donna per a6 donna per b2 attaccando il cavallo che vabbè è difeso dalla donna momentaneamente ma si sta minacciando anche cavallo b4 pedone c libero non lo so qua vedo più mano libera per il nero mi sembra preoccupante questa posizione per il bianco comunque non è sicuramente la posizione che io avevo in testa quando avevo iniziato questa manovra con torre b6 eccetera quindi mossa molto interessante la mossa corretta in questa posizione doveva essere alfiere per a6 mossa che in partita ho calcolato ma ho visto come al solito qualche fantasma avevo visto che torre a8 era molto forte perché dopo alfiere per b7 torre per a5 e alfiere c6 in questa posizione qui il nero si ha perso un pedone ovvio come doveva essere ma non mi sembrava poi così passivo in realtà in questa posizione qua il bianco è in netto vantaggio vedendola adesso davanti ai miei occhi è normale che io mi renda conto del vantaggio del bianco in partita comunque ho fatto una sorta di di paragone tra questa posizione che io vedo in particolar modo la torre in a5 libera su una colonna aperta libera di agire e la posizione di questa torre adesso in b8 ho pensato che il pedone in b7 o in a6 a seconda del di ciò che faceva il nero potessero cadere in qualsiasi momento non avevo fretta di guadagnare materiale volevo solamente consolidare la mia posizione e onestamente forse ho sopravvalutato le chance del mio avversario sul lato di re e ho iniziato a a calcolare molto a dire il vero a calcolare questa f4 del nero che mi mi ha turbato non è solamente per la spinta in f4 vedevo che a un certo punto c'era f4 c'era il possibile sacrificio di alfieri in h3 c'era questa torre su questa colonna che si sarebbe andata ad aprire c'era forse qualche salto di cavallo c'era qualche manovra come f4 e poi la donna in g5 che va a minacciare sempre era ho vinto a vede forse qualche fantasma così iniziando a vedere che andavo in difficoltà di tempo ho deciso di giocare la mossa che secondo me comunque concede un po' del vantaggio che avevo preso fino a questo momento ma che comunque mi faceva tenere più o meno d'occhio la situazione ho giocato donna c4 l'idea è di giocare contro f4 la impedisce se facesse f4 adesso il nero è ovvio che farei donna per f4 e vincerei molto facilmente allo stesso tempo sto minacciando di giocare io donna f4 donna f4 posizione dalla quale donna e torre attaccano il pedone di 6 e dopo un cambio di donne la posizione è nettamente migliore per il bianco diciamo che l'unica speranza qui per il nero di giocare una partita equilibrata sarebbe stata quella di mantenere le donne sulla scacchiera e cercare di aprire qualche linea sulla latire in uno di questi punti per esempio g4 o f4 punti di rottura punti in cui i pedoni le nostre strutture pedonali entrano in contatto con f4 o con g5 g4 le nostre strutture pedonali entrano in contatto questo forza all'apertura di linee il mio avversario giustamente gioca g5 una mossa molto forte che prepara entrambe le spinte di rottura quindi è quello che doveva fare il mio avversario mossa che comunque io mi aspettavo qui non sono andato a toccare i miei pedoni per non indebolirmi allora io gioco torre d1 perché ho considerato che in molte delle varianti che calcolavo mi restava quel pedone d5 in presa scomparendo il pedone d5 scompare anche il vantaggio del bianco dobbiamo pensare qui forse pecca d'ottimismo o semplicemente ha commesso un errore di calcolo e gioca h5 che sebbene possa sembrare una mossa molto aggressiva è una mossa che a me concede concede la possibilità di risolvere i miei problemi dopo questa mossa del nero il bianco non ha più nessun problema in difesa l'attacco del nero non arriva più dopo h4 non si può spingere in g4 arriverebbe donna f4 la donna sta minacciando sia il cambio sia il pedone in d6 sia di entrare in g5 se ovviamente il nero andasse a prendere il pedone in h4 sarebbe lo stesso prenderei prima il pedone ad esempio in h4 a qualsiasi replica c'è donna g5 sto minacciando donna g5 sto minacciando donna f4 comunque questa struttura sicuramente non è la stessa cosa di prima prima la struttura contava sui pedoni f5 e g5 pedoni comunque uniti questa h4 è un sacrificio di pedone teso proprio a rovinare questa struttura a dividere i pedoni a creare dei buchi sulle case critiche le case critiche abbiamo detto che erano le case f4 e g4 dopo questa mossa qui io diciamo che le sto ho eliminato togliendo il pedone da h3 ho eliminato il punto di rottura in g4 e sto minacciando di eliminare il punto di rottura anche in f4 perché se questo pedone andasse a prendere non ci sarebbe più la spinta di rottura in f4 o comunque sarebbe molto indebolita il mio avversario qui giustamente gioca a cavallo g4 non si può prendere in h4 né spingere tantomeno alfiere per g4 è forzata il mio avversario minaccia matto in 2 donna h2 e donna h1 matto quindi prendo f per g4 e a questo punto gioco una mossa molto interessante che va a risolvere tanti problemi delle mie posizioni o almeno quelli che mi erano fatte nella mia testa cavallo e4 questa mossa è molto forte perché sta attaccando il punto d6 il punto g5 sto difendendo g3 era minacciata anche g3 sto difendendo il punto f2 e allo stesso tempo sto minacciando il cambio delle donne con donna c3 il mio avversario qui gioca g per h4 a questo punto io cambio le donne non ho intenzione di riprendermi il pedone o di fare altro a me interessa semplicemente cambiare le donne alleggerita delle donne questa posizione l'ho ritenuta vinta per il bianco il mio avversario cerca di complicare con g3 io semplicemente prendo il mio avversario riprende e a questo punto prendo la donna in e5 non catturo in d6 con la torre facendo leva sul fatto che la donna è inchiodata avrei potuto prendere in d6 tanto la donna qui non può spostarsi da questa diagonale c'è il re dietro quindi avrebbe semplicemente dovuto cambiare ma a me non interessava aprire troppe linee in questa posizione perché? perché aprendo troppe linee avrei dato attività al mio avversario e questo avrebbe fatto sì che in un modo o in un altro anche sacrificando dei pedoni questa attività gli avrebbe in qualche modo concesso del controgioco ed era ciò che io non volevo fare come vi ho detto prima vi ricordo io non volevo rischiare troppo avevo bisogno di vincere sì ma senza rischiare quindi decido di cambiare le donne adesso vedete che dopo d per e5 il mio cavallo è protetto dal pedone avversario cioè non c'è modo per una torre di attaccare il mio cavallo perché la casa f4 è tenuta dal pedone 3 e la colonna e è chiusa dal suo proprio pedone a me non serve che la presenza del pedone d6 della debolezza del pedone d6 resti fissata lì se si toglie il pedone d diventa debole il pedone c a me non mi interessa quale pedone mi vada a mangiare l'importante è che la posizione dei miei pezzi sia solita e non ci sia problemi di controgiochi o di calcolare troppo o di finire comunque in posizioni difficili da capire magari con poco tempo sull'orologio il mio avversario io prendo ovviamente il pedone in g3 stavo in presa minacciando anche di prendermi quello in h5 forzando alla replica del mio avversario alfiere g4 che difende il pedone in h5 mentre attacca la torre in d1 ovviamente torre c1 mi tolgo dalla presa mentre sto minacciando qualcosa quindi diciamo non ho dato mai tempo al mio avversario di consolidare la propria posizione o di cercare di coordinare i pezzi per cercare un controgioco torre c8 cavalline 4 ora si apprezza di più la forza del cavalline 4 che attacca tutte le debolezze torre df in c7 d6 questa mossa va a fare leva sul sovraccarico della torre la torre da c7 è sovraccarica perché sta difendendo il pedone in b7 mentre sta difendendo anche il pedone in c5 qualcosa si dovrà lasciare il mio avversario gioca torre c6 lasciandomi il pedone in b7 torre per b7 scacco re g6 d7 ora torre d8 il pedone in d7 al momento è difeso solamente dalla torre mentre è attaccato dalla torre alfiere ma ho questa bella intermedia che è torre per c5 dopo di che ho modo di rientrare in difesa del pedone è forzato qui il cambio non c'è altro da fare il cavallo prende mentre riprendo la torre vado anche a difendermi il pedone in d7 il re cerca di avvicinarsi per catturare quel pedone qui calcolo un finale comunque vinto e decido di semplificare tutto cavallo per a6 torre per d7 cavallo c5 il cavallo in c5 ha trovato la sua casa ideale torre per b7 è forzata la torre era impresa cavallo per b7 alfiere in e2 l'idea di andare a prendere il pedone bloccare il pedone passato su questa diagonale per la casa a6 quindi è normale che io abbia scelto di giocare cavallo c5 per continuare ad appoggiare in questa casa l'avanzata del pedone re e7 a6 alfiere b5 a7 alfiere c6 per andarti a prendere questo pedone in a8 ma è troppo tardi perché ora arriva cavallo a4 cavallo a4 il cavallo non può essere catturato perché ovviamente andrei a donna il re cerca di avvicinarsi ma con un tempo di ritardo perché dopo cavallo b6 re c7 è sufficiente andare a donna alfiere per donna cavallo per alfiere re b7 il mio cavallo entrappola ma non fa niente perché il finale è vinto e dopo re f2 il mio avversario abbandona abbandona ovviamente in vista di re per a8 re f3 re b7 re e4 re c6 salta il pedone e5 il re bianco avrà mano libera potrà andarsi a mangiare anche il pedone in h quando il re andrà a prendersi il pedone b semplicemente promuoverò il pedone g o viceversa quindi il finale ovviamente è perso questa è una partita molto interessante molto difficile probabilmente vista così non rende chi gioca tornei chi ha la possibilità e la fortuna di giocare nel circuito agonistico saprà e si renderà conto che comunque è molto complesso tutto ciò che sta dietro alle partite che vediamo io spero che la partita vi sia piaciuta spero di essere riuscito ad accontentare il nostro iscritto anche se immagino che si aspettasse una partita un pochino più movimentata però credo sia sufficiente per vedere quali sono i temi tipici in un'apertura così complessa di nuovo io vi saluto e vi ringrazio se il video vi è piaciuto mettete like se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e cliccate sulla campanellina così che youtube possa inviarvi le notifiche sui nuovi contenuti di mattoscacco e senza nient'altro da aggiungere vi saluto e vi auguro una buona giornata e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao